Torte, tortelli, tortellini, oppure cappelletti. C'è tutto un universo dietro a una questione terminologica. Ma esistono anche punti fermi nella galassia gastronomica emiliano-romagnola. Come le sfogline, le mitiche signore di casa che preparano la pasta ripiena con abilità e mestiere impareggiabili. La pasta ripiena, nella gastronomia medievale, ha origine quando la tradizione della pasta si incrocia con la tradizione della torta salata. Dalla torta e dalle sue mille declinazioni inizia il viaggio del professore dello chef alla ricerca degli ingredienti, di arte e cibo che compongono la ricetta di questo episodio. Mi chiamo Luca Marchini e faccio lo chef nel mio ristorante nel centro di Modena. Sono Massimo Montanari e insegno storia dell'alimentazione all'Università di Bologna. Ecco le storie di arte e di cibo che si nascondono dentro alcune ricette tradizionali di una sorprendente regione italiana. Grazie per la visione!